Siamo nel retro del palco, qua ci sono tutti i tecnici, qua c'è la seconda parte del palco perché lo sapete che una caratteristica è quella del palco che gira, eccolo qua, questa è la parte che in questo momento non si vede mentre subito di là c'è la parte invece che è visibile in questo momento al pubblico.